Prosegue il contrasto ai reati contro il patrimonio dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa nei centri urbani e nelle periferie rurali. In particolare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria sono stati allertati dal proprietario di un fondo che segnalava la presenza di sconosciuti nella sua proprietà che tagliavano i suoi olivi secolari per raccoglierne le olive. Immediatamente i militari hanno raggiunto il fondo sorprendendo i tre ladri all'interno della piantagione di olivi ancora impegnati nell'illecito raccolto. I ladri si erano dotati di un furgone per il trasporto dell'ingente quantitativo di olive, erano equipaggiati con attrezzature per la raccolta e di una motosega a scoppio per recidere i rami degli olivi e raccogliere le olive dai rami caduti. I militari intervenuti sono riusciti a recuperare i 100 kg di olive già caricate sul furgone anche se non hanno potuto evitare i danni già causati agli olivi secolari che restano irreparabili per l'impossibilità del proprietario del fondo di poterne godere dei frutti nei successivi anni. I carabinieri hanno pertanto sequestrato il furgone e l'attrezzatura e arrestato i tre ladri per tentato furto aggravato in concorso che dopo il rito direttissimo di convalida dell'arresto venivano posti in libertà in attesa di giudizio.